Ciao a tutti, finalmente riparte lo sport, pare che il periodo peggiore ce lo siamo messi alle spalle, purtroppo però non per tutti è facile come prima fare sport. Effettivamente diciamo che i costi da sostenere per i tamponi, per tutte le misure di sicurezza, per tutte le criticità che ci sono, sono più alti e quindi il rischio è che poi la forbice tra chi lo può fare e chi non lo può fare aumenti e come dire porti tante persone magari a non poter fare pratica sportiva. Quindi io ringrazio la fondazione provinciale Comasca Onlus e ringrazio tutti voi che la sostenete perché davvero lo sport è per tutti ed è giusto che tutti abbiano la stessa opportunità di farlo. Usciamo dal Covid, rientriamo in campo, tutti però. Ciao! 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 Grazie a tutti.